Ehi, ciao a tutti ragazzi, come stai oggi ragazzi? Siamo insieme a Giorgio, Nicolò e Cristiano Ovviamente Nicolò voi non lo conoscete, mi sa No, 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 basta È diventato un meme quella cosa, praticamente C'è Cagnolino, cagnolino Allora, dicevo Oggi ragazzi giocheremo solo una scuola normale Insieme a, avete già sentito prima Ah, è vero, lo massisce, è vero No, 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 mi distorcio No, cos'è no? Scarrasso? No Che cosa? Che cosa? Che cosa? Cagnolino, cagnolino Oh, ma se mi hai trovato il combat No, è in colora, minima. E io lo combatto, ragazzi. La mitragliatrice. No, ragazzi, abbiamo perso. Perché? Eh? Eh? Basta, niente. Ah, ok. Per farlo per vincere, babbo. Ah, non l'avevo capito. Allora. Ragazzi, qua c'è un altro combat per chi lo vuole. Oddio, ma siamo già ai 70? Ma il f***? 60 no, va bene, ok. Ragazzi, tengo il cecchino, sto tutti morti. E io, la mitragliatrice. Ragazzi, stiamo facendo casino, parliamo una volta. C'è gente? No. No. Chi vuole un bel gancheraggio dentro il... Io. Io. No, fra, facciamo i roghi. Tutti roghi. Vai, è vero. Aspetta, aspetta. Buttiamo qui. Arf, è scheroso. In qua, in qua. Ok. Ok. Allora. Aspetta. No, Nicolò, tu tolliti. Tolliti, Nicolò. Non è adatto a te questa cosa. Tutto, ragazzi, due secondi. No, te, ragazzi. Non lo fare, non lo fare, Gio. Facciamo il trucco della portapesta. È vero, è vero, è vero. È vero, è vero, è vero. Così, così. Giorgio, metti di qua. Giorgio, metti di qua. Eh? Eh? Eh, però dobbiamo buttare con la casa. Eh, però dobbiamo buttare con la casa. Facciamo il normale. No, eh no, fra, se no è impossibile. Eh, vieni qua. Vieni qua. Lo si, papà. Ho spiegato i mazzi. Ragazzi, guardi la forza, la dobbiamo fare. Allora. Allora, fai. Allora, fai. Giorgio, vai, vai. Lo faccio bene qua, Giorgio. Faccio, faccio io. Eh, vabbè, sì, ma dai, però, si è giocato facilmente. Allora. Vai. Allora. Aspetta, prima mi devo fare la preghiera. Nome padre, figlio dello spirito santo. Amen. Vai, puoi andare. Ok. Vai, 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 vai. Sì, arrivo. Eccomi là. Arrivo, Nicolò, tranquillo. Eccomi, Nicolò, dove stanno, dove stanno? Eccomi, sono qua, sono qua. Eccoli, ho il cecchino, li uccido. E qua, pezzini. Allora, tirato. Muori. No, mi hanno preso a me questi stron. Io avevo atterrato uno, regà. Avevo atterrato uno. Mi sto curando. raga me lo fate a me per favore io ho salvato letteralmente Nicolò praticamente possiamo dire io pure ti ho salvato appunto grazie c'è giorgio ha salvato me e io ho salvato Nicolò a caso guarda la safe è da quella parte quindi facciamo così ma fermo no no raga così dobbiamo fare guardate no però c'è la montagna giù cavolo e vabbè ma questo ci va in safe che sta arrivando al Elfo oddio ci è arrivato incredibile vedi ragazzi facciamo eh ragazzi facciamo una cosa alta ragazzi e io devo andare a pushare no raga l'avevo lessorato quella cinese ok ho lessorato quella cinese ragazzi ma su mamma non lo so muorvi 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 nooo oh raga lo dobbiamo rifare il lanciaraggi no raga io ne ero fatti tu no raga e io ne ero fatti tu sti cazzi eh ggg io avevo la avevo cliccato la cioè la cacca dei scusate la cinese l'acqua passiamo la prossima partita la cacca dei scusate cacca dei scusate ok ragazzi siamo alla prossima partita sempre insieme a Giorgio Nicolò e Cristiano ma io mi no no io mi dissocio mi dissocio mi dissocio da tutto da quello che ha detto appena adesso Cristiano ma mi sta trollando questo ma mi sta ma raga mi sta non toccare alla mia mamma vabbè la scheda vado io a Giorgio non rispondite non rispondite aiuto faccio la capanna e curami faccio la capanna e curami ragazzi c'era un'ora che mi stava trollando io la mi stavo tutti i colpi e lei si no 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 Nicolò che è Nicolò non lo fare Nicolò eeeh ma non lo so è stato c'è stato vieni Nico mi tiene poco più o meno poco più o meno però no Ok io mi prendo l'aria di quel sogno che ha finito sto... gogo! aiuto! si può... giovane si schiede no mi ha bloccato so stupido qua come ho fatto ad uccidermi? forse avevo poca vita sti bucitti c'è sta facendo non prendere a me la mia scheda non toccare me la mia scheda ma è un albero si spari all'albero giorgio ma vai a pusciare sto personaggio no mi dici pure io la scheda vai giorgio salve i tuoi amici oddio ai 5 secondi l'inglese è proprio 100% 5 secondi non mangio ma mangio ma mangio poi mangio il quaderno eh e vabbè che sei un drago che mangia quaderni libri pure libri vuoi non toccare me alla mia famiglia non è vero non è vero non è vero mi ha fregato materiali colpi non mi colpite tutto io non li tengo perchè pure io sono spawnata adesso sai ma Nicolò ah ecco non è vero giorgio è vero non è vero non è vero ma è anche il tuo migliore amico ha detto che non è vero perchè è vero ho detto che è vero capito ho detto che è vero no io ho sentito che non è vero e anche non è vero ti sei preso tutto quindi dammi e ganci il money ok dai sgancia sgancia compa no vipo e dai madonna te la ti sei preso no non mi ha tolto niente no raga ma io sono subito altre volte cioè praticamente avevo colpito la cosa non amare che non ho perso niente niente riprommi poterai in quelli che voli di grazia almeno di metri e di getto va bene teni per me colpi pompa me vai vai teni ti ho dato pure i precisi adesso io ho bisogno di munizioni AR e munizioni di cose adesso io ho bisogno di munizioni non tocare me la mia famiglia io me ne sto a fare fuori con la barca ok va bene questo andrà ma aspetta mi devo fare sicilia ti aspetta me li prendo perchè c'è altre medica io arrivo con la macchina e non me ne voglio fare aia vai aia no mi sono ciò certo me l'ha serato craccato quello sovregge a terra me l'ha lasciato a terra a terra sto scherzi se l'ha giocerato uno deve te la teglio grazie Gio questo è bello ma perchè Nicolo non parla proprio scusate scusate guarda Cristiano quanta vita tiene non lo si vede quando succede questo che fate? mi segnate? si? sii raga non riesco a costruire madonna mi dai il barretto ma non mi tengo non avevo il barretto giuro questo lo tengo questo lo tengo Gio forse ti sei confuso con me che avevo il barretto il slip mi dai il barretto non lo tengo Io ho bisogno di un altro Barret se vuoi un Barret Io avevo visto un Barret qua Cristiano No io non ho niente guarda questo Guarda che ride Cristiano No guarda i vostri prodotti entrate Però grazie non me lo giolate Non toccare me All'unito Allora Facciamo finta che salva il mondo Allora io scambio con Cristiano Vai via Andate via Andate via Devo scambiare con Cristiano No io devo scambiare con Filippo per il Barret Vai via Nicolò Ecco vedi che non lo tengo io il Barret Vai Filippo Cosa mi droppi Allora no prima devi droppare tu Voglio sapere cosa mi devi dare Vai ecco eccolo 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 Vai 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 là Nicolò Eh qua Nicolò stai qua con me Voi là con Cristiano vai là Ok bravo Nicolò Io ti do questa 130 full pack Va bene Non si ha dei colpi di questo Io salto se vuoi Ma Ah eh Dove mi droppi la pistolina Guarda se vuoi ti do la pistolina che sta dietro lì te No la tengo già La tengo già La tengo già Capirò il Barret I tu ti do I tu ti do I tu ti do I tu ti do Allora bro Ah Basta non scambiamo che va bene non sono adesso sono tappo Va bene io con Cristiano No 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 io con Cristiano Don non lo sapevo Io 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 Ah ok ok Allora scambio una gigol 130 elemento fuoco Io voglio vedere Cosa cosa scambi? Una gigol Una gigol 130 elemento fuoco No non mi interessa Un pi 90 Io ho bisogno del pi 90 Io scambiamo scambiamo Io ho bisogno del pi 90 Mi serve cecchino Eh no 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 Dai frattito tutto il mio loot Guardi Allora Aspetta prima voglio scambiare io con Cristiano Voglio la mitraglia La mitraglia La mitraglia No no prima Filippo Vai Gio Poi vuoi Allora io non voglio il cecchino Io voglio la mitraglietta Cioè la mitraglia La mitraglia Io intanto vado a staggiare No no mi stoccio Allora io scambio La mitraglietta E' più 90 130 elementi fuoco Te che mi dai? Ti do questa mitraglietta qua Ci c'è Ti c'è No 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 Tu scambia Lascia lascia tu ok si dà l'accetto ehm ragazzi niente 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 non ho truffato cristiano subito il royal invece mi salva oooooh l'avevo 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 tantissimo come loro ci hanno la serata o no devo scappare aiuto no vabbè regalo aiuto no no regalo ma questi no vabbè ma il video alla fine se lo sei uno i muerti tutti vai 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 gio sei in tutti noi sarai una di noi mani con la palla mamma da niente mamma da niente giù ah ma l'hanno già ucciso quello ma questa mancanevano un po' qua vabbè va ma vai ma ma probabilmente ehi rosicone ah tante bambine che parla quello faccio sempre lì ovviamente mi aspetta un attimo ma facci va tutta Giorgio che solo io è rimasto qua amica due sono cittura compasso qua rete madonna santa avocalisse e vabbè basta che ti bombardano questi oh ma che cosa cazzo ma che cazzo ma cosa è successo vabbè ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciate like tantissimo iscrivetevi al canale è attivato la campanellina bella e salutate bella 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 bella